Dio amato e ha scelto il suo popolo che è in cammino verso la pienezza dei tempi, un cammino con santi e peccatori. Papa Francesco ha incentrato l'omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta sulla prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, in cui San Paolo parla della storia della salvezza fino a Gesù, mettendo in luce che Dio si è fatto conoscere nella storia e che è lo Spirito che ci fa capire il messaggio del Signore. È tutto un cammino, ha fermato il Papa, per approfondire la fede e la morale. In passato la schiavitù, la pena di morte erano accettate, oggi sono inammissibili, sono peccato mortale e lo stesso vale per le guerre di religione. In questo chiarire la fede e la morale, ha aggiunto, ci sono i santi, anche quelli nascosti, una santità che ci porta avanti verso la seconda pienezza dei tempi, quando il Signore verrà. Il popolo di Dio è così chiamato a non fermarsi, se lo fa, ha fermato il Papa, diventa un asinello prigioniere in una stalla. Ognuno di noi è in cammino verso l'incontro personale con il Signore. Nella confessione bisognerebbe chiedersi se quel passo è nel cammino verso la pienezza dei tempi. Chiedere perdono a Dio, ha concluso Francesco, non è una cosa automatica. E capire che sono in cammino, in un popolo in cammino, e che un giorno, forse oggi, domani, o fra trent'anni, mi troverò faccia a faccia con quel Signore che mai ci lascia soli, ma ci accompagni nel cammino. Pensate a questo. Quando io vado a confessarmi, penso a queste cose che sono in cammino, che è un passo verso l'incontro col Signore, verso la mia pienezza dei tempi. E questa è la grande opera di misericordia di Dio.